Ciao ragazzi, benvenuti in questo post partita Fiorentina-Milan 1 a 2 Prima di iniziare mi raccomando come sempre lasciate un like se non siete ancora iscritti Iscrivetevi, molti di voi pensano di essere iscritti ma non lo sono Quindi controllate, se non siete iscritti fatelo se vi va, vi ringrazio nel caso Allora ragazzi, partita importantissima Partita che viene dopo la sconfitta all'ultimo secondo della Juventus-Lazio E quindi per consolidare il secondo posto era necessario vincere, necessario perlomeno fare punti Speravo, volevo, desideravo, sognavo una vittoria che c'è stata E quindi ottimo, vi ripeto, per il secondo posto a maggior ragione che non so se avete sentito E' uscita l'ufficialità che per quanto riguarda la Supercoppa italiana anche per l'anno prossimo Ci sarà la Final Four, quindi prima e seconda in campionato contro le due finalisti di Coppa Italia Sapete come la penso? Dani ma la Supercoppa italiana chi se ne frega? No, io la vorrei vincere sinceramente qualora ci partecipassi Io sono dell'idea che vincere serve sempre, signori, sempre Che sia la Coppa Italia, è ovvio che spero di vincere i trofei più importanti Sogno la Champions in generale intendo, non l'anno prossimo Se non c'è la Champions va bene l'Europa League, va bene la Coppa Italia, va bene la Supercoppa italiana L'ambizione deve essere sempre massima ma poi a do coio coio sinceramente Io la penso così, molti in realtà non sono d'accordo Quindi Milan che adesso raggiunge quota 65 punti, la Juventus si ferma a 59 punti Per quanto riguarda la partita ragazzi, era una giornata particolare Molto, 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 molto emozionante il saluto che lo stadio e la società hanno riservato per Gio Barone E quindi sportivamente parlando temevo anche quella marcia in più che ti può dare una situazione del genere Fiorentina che infatti parte subito molto forte Siamo riusciti a limitarla i primi minuti quando veramente sono partiti a spada tratta Poi in realtà nel primo tempo tra le occasioni concesse che ne concediamo sempre tante Ma ormai sappiamo, ormai sappiamo che quest'anno la situazione è questa E quelle invece create sul piatto della bilancia comunque pesavano più quelle create Penso alla doppia occasione che ha avuto Giroud Prima da un lato e poi dall'altro Prima su assisti Giucquese e poi su assisti Eleao Ha aperto il piattone, cosa che di solito fa sempre magnificamente bene Ma in entrambe le occasioni non è riuscita a segnare Occasione anche per Giucquese di testa Mentre la Fiorentina si è resa pericolosa Se non erro solo una volta con il Gallo Belotti Che sbaglia ad allargarsi se la porta sul destro Incroce il tiro, ma megnan, chiude molto bene Devo dire, primo tempo bello Ricco di occasioni Vi ripeto, da una parte e dall'altra Ma soprattutto per quanto riguarda il Milan Che forse avrebbe meritato anche di andare negli spogliatoi Con un gollettino di vantaggio Non è successo, però insomma Mi tornano in mente le parole di Pioli Quando da un po' di tempo a questa parte Secondo me Da chi ha capito che non riesce a mettere una pezza Per quanto riguarda i gol subiti Ha iniziato a dire L'importante è fare un gol in più dell'avversario E la sensazione ragazzi Lo diciamo anche in live con Steve prima È che il Milan Se vuol far male Può far male E dietro invece Siamo sempre troppo troppo a rischio Però insomma Abbiamo accettato questo compromesso Quest'anno E visto che non riusciamo a metterci una pezza dietro Piuttosto Proviamo a far sempre male in avanti E mai come quest'anno Io quando attacco Io Milan Ho la sensazione che davvero posso Segnare da un momento all'altro Nel secondo tempo È successo praticamente tutto in 3-4 minuti Prima passa in vantaggio il Milan Molto bravo Giucquese A servire in verticale Leao Peraltro Bella prestazione di Giucquese Domani alle 7 ragazzi Uscirà il pagellone Quindi mi raccomando Non perdetevelo E darò un bel voto a Giucquese Perché non ha fatto cosa Non ha fatto assist Ma lo avrebbe meritato Almeno una delle due Una delle due bonus Gli avrebbe meritati Dicevo Passaggio di Giucquese Per Leao Colpo di tacco Meraviglioso Se non sbaglio Ora non ricordo chi fosse Che è scivolato Milenkovic Se non sbaglio Milenkovic Scusate Milenkovic è scivolato L'off to cheek Ha avuto tutto il tempo Del mondo Per sistemarsi la palla Col tacco Se l'è girata Ha segnato Altro gol Altro gol Di l'off to cheek Ragazzi Che sta segnando Veramente Tantissimo E anche qui Ripenso alle parole di Pioli Quando ha detto Mi ricorda Milenkovic Savic Sono due giocatori Di struttura simili Diversi Sotto tanti punti di vista Forse Milenko Forse L'off to Si è ancora più Come dire Ancora più Carrarmato Rispetto a quanto lo fosse Effettivamente Milenkovic Savic Meno tecnico Sicuramente Però Il fiuto del gol A quanto pare Ce l'ha Anche l'off Tus Che non ha mai Segnato tanto Quanto quest'anno Una volta trovato il gol Cosa succede? Classico Del copione del Milan Disattenzione Gol subito Gol di Duncan Su disattenzione generale Della difesa Ma ormai siamo abituati Ragazzi è così Duncan che riesce a trovare Un bel gol Qualcuno in live Prima diceva Forse Forse Mignon potrà fare di più Non lo so Non l'ho rivisto A me sembrava abbastanza Forte e angolato Il tiro Non so se Mignon effettivamente Possa avere sul gruppone Sto gol Non credo Credo comunque più La difesa in generale Piuttosto che Che lo stesso Duncan Difesa che ha Continuato a ballare Anche in altre occasioni Infatti abbiamo Rischiato fortemente Anche Di subire altri gol Fortunatamente però Una volta subito il gol Siamo riusciti Dopo 2-3 minuti A farne un altro Molto bello Di Leao Che parte in contropiede Mi ha ricordato Inzaghi Nei mondiali 2006 Quando c'era Inzaghi Che correva Barone a fianco Ora me la passa Ora me la passa Ora me la passo Passa in questo caso Barone Era ciocquese Ero convintissimo Che gliela passassi Invece no Leao è andato dritto per dritto Dribble il portiere Posso dire anche Con una semplicità Mostruosa Non ho capito Lì Terracciano Cosa ha fatto Cioè si è buttato a terra Mezz'ora prima Insomma superare il portiere Di solito non è facile E noi non siamo neanche Abituati a farlo Non più di un paio di vlog fa Avevo detto che Leao Non segna mai Superando il portiere Puntualmente Leao mi ha smentito Chiedete scu- Anzi chiedo scusa a Leao Però Terracciano Lascia molto a desiderare Sinceramente Con quell'intervento Decisamente goffo Steve ha detto Sembrava il portiere di FIFA Buggato Ed effettivamente era così Quindi passiamo in vantaggio 2-1 Quindi gol e assist Di Leao Zitto zitto Anche oggi È riuscito a incidere Tantissimo Che che se ne dica Dopodiché Un paio di scelte Secondo me Un po' Ma neanche discutibili Io non le avrei fatte Nel senso che Ha tolto subito Leao A mezz'ora abbondante Al termine Poi per come sono andate le cose Benvenga Io avrei tolto Giroud Perché l'ho visto Un po' più Un po' più Imballato Questo oggi Infatti Conoscendolo Tra virgolette Sarà Molto deluso Della sua prestazione Giroud Poche sponde Quella doppia occasione Mancata Nel primo tempo Avrei tolto lui Magari per mettere Okafor In un secondo momento Magari avrei spostato Okafor sulla sinistra Togliendo Leao Mettendo Jovic Però vabbè L'importante ragazzi Che in qualche modo Questa partita L'abbiamo portata a casa Abbiamo rischiato Ovviamente sia Di subire gol Che di farlo Vi ripeto Ormai le partite Del Milan Queste sono Però l'importante Oggi era comunque Vincere In un campo difficile Dove Abbiamo perso Le ultime due volte Che ci abbiamo giocato Vi dico che Anthony Anthony Forse Ha preso Il prodotto Domani ragazzi Live reaction Alle 14 Se riesco Ve la carico Anche un po' prima Chi lo sa Non lo so Vedremo Detto questo ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Mi raccomando Vi lascio qui Un po' di video Se volete recuperarveli Vi ricordo Che ormai escono Sempre due volte al giorno Uno alle 7 Uno alle 14 Tranne il giorno Che gioca il Milan Che magari O nel weekend In generale Che gli orari Possono essere Un po' diversi Però dal lunedì Al venerdì Indicativamente I video escono Sempre In questi due orari 7 e 14 Sostenete Questa super Mega Iper Produttività Del bonbrogna Per adesso è tutto Vi ringrazio Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima